Sono residenti da Anni a Sciacca due coniugi tunisini arrestati dai carabinieri nell'ambito dell'indagine scaturita dallo sbarco di ieri mattina sulla spiaggia di Piana Grande. Sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per gli investigatori sarebbero stati loro i punti di riferimento, i basisti di chi doveva sbarcare evidentemente per essere orientati sul territorio. E ieri pare che fossero pronti nei pressi della zona dello sbarco, ma i carabinieri della compagnia di Sciacca, tempestivamente intervenuti, li hanno bloccati prima che si mettessero in contatto con i loro connazionali appena scesi sulla terraferma, si trovavano in auto ad aspettare. Quello di Piana Grande è stato uno dei due sbarchi di ieri a pochi chilometri di distanza. L'altro si è verificato a Siculiana. Una sessantina emigranti giunti sulla spiaggia riberese, appena 14 quelli individuati affermati, gli altri sono riusciti a dileguarsi tra le campagne circostanti. La stessa cosa era accaduta anche a Torre Salsa, sequestrato ovviamente le due imbarcazioni. In merito all'episodio di Piana Grande è stata individuata anche la donna tunisina che, stando alle testimonianze raccolte, avrebbe effettuato la traversata insieme agli altri connazionali. Nei confronti delle persone fermate è stato disposto il decreto di espulsione del territorio nazionale. I centri di prima accoglienza al momento non hanno spazio. Interventi quelli di ieri dei carabinieri tra Piana Grande e Siculiana, che sono solo due degli otto sbarchi improvvisi negli ultimi giorni, verificatesi in questo tratto di costa tra Real Monte e Siculiana e Ribera. Il dispositivo messo in campo dal comando provinciale dei carabinieri ha visto l'impiego di numerose pattuglie delle stazioni, aventi competenze sulla fascia costiera, supportate dai nuclei operativi delle compagnie di Egrigento e Sciacca. Infatti, in ogni sbarco verificatosi, le stazioni hanno sempre garantito il primo intervento, venendo successivamente coadiuvate anche dalle altre forze di polizia, allertate dalla centrale operativa del comando provinciale carabinieri di Egrigento. Le ricerche espletate dai militari, svolte sia a terra sia con le motovedette operanti a Lampedusa, Linosa e Porta Empedocle, hanno consentito di rintracciare complessivamente oltre 150 migranti. Sull'isola di Lampedusa, tra giugno e fine agosto, sono complessivamente avvenuti 45 sbarchi, con l'approdo di oltre 1200 persone, mentre sull'isola di Linosa sono avvenuti 5 sbarchi, con l'arrivo di oltre 100 migranti. Migranti bloccati dopo essere stati sottoposti alle operazioni di identificazione e fotosegnalamento che sono stati accompagnati presso l'ufficio emigrazione e successivamente trasferiti in varie strutture ed accoglienza dell'isola. A seguito di ogni sbarco, inoltre, i carabinieri hanno effettuato specifici sopralluoghi nelle aree interessate che hanno consentito di rinvenire elementi utili al proseguo delle indagini per contrastare lo specifico fenomeno. Ad Agrigento, intanto, un altro tunisino, nonostante fosse stato già espulso, ha fatto rientro nel territorio italiano, mentre tutti gli altri migranti rintracciati sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per ingresso illegale nel territorio dello Stato. Durante la stagione estiva, in particolare da ferragosto in poi, sono state intense le attività di controllo e ricerca di migranti irregolari svolte dai carabinieri del comando provinciale, sia sul litorale costiero agrigentino, sia sulle isole di Lampedusa e Linosa.